più forte siamo pronti si tutto pronto prontissimo ma registra attrezzatura pronta finestra chiusa fatta microfono clone di stasizza chiuso nell'armadio bello c'è c'è perfetto quindi non dovrebbe esserci più nessun problema assolutamente no giusto ma registra ok siamo pronti si mi raccomando con e dai e 3 2 1 che cazzo fai oh lo scherzo lo scherzo cazzo ma perché c'è sempre qualcosa che non va 6 2 4 1 5 0 Salve a tutti ragazzi! Questa sinistra del Sicile Brothers Oggi è nell'oggi Ecco tu qua Iniziamo a questi 2 Grazie Scusa 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 faccia diminta Non sei da solo Ci siamo io e Buschetta E tu ti ha messo anche dietro Sono solo L'ha fatto tutto stesso Infatti tutti così Per una volta nella sabita ha fatto qualcosa da solo Io che volevo me buer me l'autostrada Siamo periti di te Io pure vi amo Abbiamo appoggiato Abbiamo appoggiato Ragazzi grazie alla presentazione del Stasizza Avete già capito tutto Vaffanculo la sorpresa Vaffanculo i 3 minuti iniziali dei nostri video Per aspettare Per il FLAIM Che se tu mi ricordi Se fai 3 minuti prima Badagliamo di più Taglia 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 Oggi facciamo un video Che potrebbe essere considerato Un video esperimento sociale Addirittura Si Perché oggi con questo video Noi mostreremo La coerenza Dei video giocatori di Call of Duty Io direi che dimostreremo Quanto una persona si può incazzare Da 1 a 10 Dopo aver giocato una partita del Royale Essere calati di un botto di trofei Soltanto per aver sbagliato A cliccare battaglia Perché sto telefono di Unchia Royale Royale Non ci penso di Royale Adesso siamo su COD PEGGIO Allora ragazzi Inizio malo Vediamo quanto pubesse il mio Una persona da 1 a 10 Faccio una cosa Creiamo le nostre classi adesso Usiamo uno slot in uno Che già la mia classi l'ho creata Coppa posso usare uno slot in uno E poi te li vai a riprendere da solo Ecco questo è il tuo slot Ok questo lo faccio io allora Vediamo ragazzi Io inizierei con un bella K40 Porco demonio Ma quanto faccio da venire lungo sto video Salta la scena in cui Primo pep che non lo puoi mettere Ma ma cosa c'è il primo pep? Vai che è nata compa Questa non è magia dell'editing E' tutta la questione di fiducia Ehi! Ehi! Come si gli lanciano le viranete E' il tasto sinistro E' il tasto sinistro E' il tasto sinistro Aveva questa sitza di turno Che ci dimostrerà quanto può essere bravo A COD Con la sua sensibilità Perchè a fine del video L'altra volta ha detto La sensibilità è troppo alta Esatto quindi giustamente La cambia a partita finita Quando va sucata Poi vabbè dai Sono cose normali che ci stanno Coppa sucata per sucata Che comunque questa mappa Fa cacare Tu me l'hai fatto male Lui ha detto che era bella No 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 Lui ha detto che era bella Coppa ti posso rassicurare Fa cacare sta mappa Ma sono cose così Ma sono cose così Fa cacare sta mappa Non esiste questa partita In realtà è tutta una vostra illusione di Dio Cazzo ci fa questo fermo Ma porca puzzale di tua mamma Dio Ammo stai calmo Compa è una uccisione Ma quello me l'ho fottuta Vai che ce l'ho usato compa Aspetta in guerra teoricamente ti ha salvato la vita E infatti ti ha salvato la vita Chi cazzo se ne fott in guerra Compa quanto è quotato di questo gioco una merda secondo te? No questa mappa è fa cacare E tu me l'hai fatta mettere sapendo che a me mi fa schifo sta cazzo Ma se non c'hai mai giocato su questa mappa Come fai a dire che c'ho giocato l'altro giorno Non c'hai giocato su questa mappa Piccio che vedi che sei utilizzato e zitti 5 secondi E vediamo come se la cava E infatti Guarda Ecco Ecco bravo Ma tu guardi che c'è il wabi attivo L'ho visto che c'è il wabi attivo Usai lanciaranate Usai lancia patate Ma che palle E va bene Cerca di fare qualcosa però dai Non come per esempio Bella la cucina Ma camperiamo dai No dai Sei più figo Anche camperando Dio po- Compa ho finito una cazzo delle mp5 Secondo me No compa questa è questa che Prova delle mp5 Dio po- Amore Compa io posso copermela pure alla cazzo Io compa posso anche succarla ma qua Guarda Guarda Dio po- E scusami ma hai rotto il cazzo Ho 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 rotto il cazzo Io sta mappa ti ho detto che mi fa cagare Tu me la fai giocare Compa la vuoi cambiare? Si la voglio cambiare E dai cambia E dai cambia per favore Compa ma non ci ha mai giocato Ci ho giocato l'altro giorno Ti ho detto minchia ma quanto mi fa cagare sta mappa C'è timato compa Allora ecco qua sta dicendo tutto Di chi vuoi che non c'è cagare C'è palle Minchia di nuovo la mi ha fatto entrare Pendestino Ma devi finire con Pendestino Ma devi finire con Pendestino Ma devi finire con Pendestino Ah ma vedete E che promosso che sta? Dai 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 Che mira di merda cosa fai che l'ho preso Preso Non lo so completamente Vai 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 Ma va 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 accomagata Faria Si Maria Ma bhardt Ho fatto l'ultimo kill Tant'e coccole tante coccole Tante coccole Questa si quency Crediamo Questa si Questa sentita Mb Va bene Brava Signue 2 Braco Ambito Il Voglio Parto Fa Qua P feed alla seconda, alla seconda alla seconda compa perchè il secondo dovessi saremmo tipo saremmo tipo 617 ma va bene così esatto bravo cambia chiesto c'è una mappa dottor Alberto con un po' per lmp5 quale? district nooo ma è spiegato proprio la mia classica comunque perchè se ho usato questa benvenuto non è questa 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 te lo posso assicurare te lo posso assicurare compa hai fatto che comunque non sei molto è una cosa buona ma non è vero è molto una volta diop scusate mi è uscita no non volevo posso fare una provata? Aspetta guarda che provata che ti faccio c'è anche un kilo bella sta provata bella sta provata bella sta provata girati girati c'ho visto ne sono due perchè alla prepartita fa sempre schifo ho un'idea sono tutti dietro iku fai sto coso hit marker doppio doppio hit marker Poi l'avevo ucciso, compa, l'avevo ucciso Ma questo stronzo ma non è mica giusto Vallevi, sta cazzo di mano davanti a me La cazzo da giù Ah la portava 8, compa No, a 7 è meglio, ecco, forse è un pochettino vecchio dai Adesso se prima faceva così, adesso fa porc***o di quel villaggio No, no, no Ma finisci di bittinare? Minchia io lo devo fodere tanto quando ti va di merda a te ora Ma a te non ti va mai niente di merda? Ma a te non ti va mai niente di merda Perché io sono forte, compa Ma qual'è il problema? Ma vabbè che a culo frate è tanto Ma culo un cazzo, io sono veterano di code Ma il vero code Non ho tutte le merda che sono uscite ora Qual'è? Qual'è il vero code? Questo compa il vero code modern, break up su 1 Si salva un pochettino Di ghost si salva, ma un pochettino A ghost ti piace? Si compa, è già un code più classico Cioè io ci gioco, io gioco a ghost E ghost è già più simile E ghost è più simile a questo già No vabbè Ma dov- no vabbè io me la voglio vedere Io devo vederla Ah certo perché una granata esplode subito così tranquillamente 5 secondi non esistono vero? Che cazzo fai? Che cazzo fai? Io mi ripeto di credere Ma sei un coagliore duco Posto? Non c'ho più Ma un cover ucciso tu Dai 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 Nooo Dio c***o Vuoi capire che Mica compa lo mi dai qualcosa da distruggere No 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 Non farlo No ma perché non Non ti fa distruggere tutto Io la voglio mettere su per il culo compa Fa un culo eh Bravo Io la voglio mettere su per il culo a stasizia No grazie preferisco di notte Aiutato Occhio Visto che se mi riusciti No visto che sei porco d***o Non toccarmi Non toccarmi che mi ammazzo pure te Oh Vai compa che me vuoi vitto Meno male che bruschettino c'è Oggi compa è molto abbellato oggi Mamma mia Oggi siamo tutti un po' incazzati Compa il gioco di merda fa quanto? 3 2 1 Dieri Basta Non lo voglio più toccare sto gioco di merda Dio Ringrazio Dio di aver comprato Battlefield 1 e non sta cacata Te lo giuro Dai non l'hai fatto così appena Certo se inizio ha fatto 6-3 compa però Io ho fatto 7 Si compa ma lui ha fatto 2.0 di rato Tu hai fatto 0.4 Quando fici 6-3? Dopo che aver giocitato da fare schifoso compa Però 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 un cazzo Però il cazzo C'è Cazzo Cazzo gioca a vaca intorno Cazzo 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 Tu ci stai lontano Non li incontri amici Cazzo Cazzo Non posso farmi fare Oh 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 Che mira Cazzo 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 Ok dai Questa Stiamo calmi Stiamo calmi Io vedo che sei molto calmo in effetti Io sono calmissimo sono Sono calmissimo Ci sono i tuoi soldi Ci sono i tuoi soldi Sono calmissimo sono Sono calmo Ti capito Ma porco di sassi Se non mi devi dalle assi Io ho sperato che il primo Perché va a cantare una bella mappa Cazzo Così Tu mi hai detto Bella e Sarà bella Fì Oddio La mira che fa Wuhu 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 Spara cazzo Ma non muoiono Ma adesso non muoiono Visto? Visto Visto fede Ah dai 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 A cazzo Porco La mp5 è fortissima No Tra la volta ho fatto le stragi con la mp5 E' che Quando si registra non c'è mai quel momento di partita Ma davvero Ma davvero Dimmi che l'ha fatta apposta per piacere Oh 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 D'è vero si è sto culo Oddio Accoltella Perché ricarico nel momento sempre sbagliato Perché? Perché ho ancora ricaricato Ma dai li trovo tutti fermi Questo devi accoltellarlo Bel colpo ragazzo C'è un problema Censura è la bestemma C'è oh con la pistola silenziata Ma manco mi ha colpito Chi cazzo ha mirato Addio Non fa male a nessuno Occhio se gli si sta riprendendo Però ho perso la partita Però vabbè Se ne fega basta si riprende la partita Quanto è? 10-11 Occhio Ma non muore Perché non muoiono Occhio Vabbè tu hai qualcosa da lanciare? Sì assolutamente sì Tieni un bruschetta Si è calmato? Un po' Ancora mi... Vabbè torna più tardi Puoi tornare Torna qua bruschetta Come ti sembra questo gioco dai? Vabbè questo gioco posso essere sincero? Sì dai È il gioco più figo di sempre È il cod più bello di sempre Hai mai provato a cadere dal terzo piano Comunque ragazzi Vabbè no 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 Quindi ragazzi il gioco è una cagata per alcuni Una bellezza per altri È il conto più bello di sempre È il conto più bello di sempre Ma per noi sinceramente è meglio Vabbè comunque ragazzi Se vi è piaciuto vi solito vi invitiamo a lasciare un commento Un bellissimo like Anche alla pagina facebook E come sapete dovrò dare la descrizione Alla prima c'è tutto ma soprattutto che cosa dobbiamo fare? Darmi i miei soldi intanto Prima di tutto Ma soprattutto iscrivetevi ai canali E noi ci rivediamo al prossimo video E fate postare i video precedenti E il miticissimo e picissimo backstage Iscrivetevi ai canali E noi ci vediamo al prossimo video Ai canali Perché ci siamo al canale? Ai canali ho detto Bravo che ho detto al canale Ma soprattutto ai canali Ma soprattutto iscrivetevi ai canali Ma soprattutto iscrivetevi ai canali Ok è un po' difficile E' schifo la streghia Mi è che caduto la streghia Beh dai finiamo di registrare Aspettate Ricalito ricalito E poi le scelette dobbiamo fare E lo so